ciao a tutti io sono enrico sangermano titolare del centro estetico massaggi torino vuoi risolvere i problemi relativi a calli duroni spessimento ai talloni oggi ho la proposta utile per te ti propongo una pedicure con l'ausilio di un nuovo cheratolitico che è nel commercio da poco e risulta particolarmente efficace e consente di eseguire un trattamento profondo e indolore alla modica cifra di 15 euro anziché pagare 20 euro che è il normale prezzo di listino e soffri di retenzione idrica vuoi lenire le tensioni muscolari in particolare schiena cervicale vuoi ricevere un massaggio rilassante su questo fantastico lettino d'acqua termoregolabili che si adatta perfettamente alle forme del corpo bene anzi oggi volevo proporti un massaggio da 50 minuti alla modica cifra di 20 euro anziché pagare dai 25 ai 30 euro che è il normale prezzo di listino se so se hai problemi di puntini neri vuoi risolvere questa problematica in maniera profonda e indolore e io eseguo la pulizia del viso col metodo a ultrasuoni e micoderma abrasione alla modica cifra di 20 euro e ma affrettati perché essendo che i trattamenti vengono eseguiti direttamente dal sottoscritto san germano enrico diplomato sem e socio effettivo della croce bianca i posti sono limitati e opero nel settore dal 1999 per prenotare puoi contattare lo 011 749 85 86 vuoi approfondire gli argomenti di cui ho fatto cenno visita il mio sito www.centroesteticomassaggitorino.it dove ho postato dei video e trattando in maniera dettagliata e approfondita tutte le questioni di cui ho parlato oggi e in ultimo ma non ultimo vorrei nel momento in cui ti recherai presso questo centro farti testare i cosmetici sia riguardo alla pedicure sia riguardo ai problemi di retenzione idrica che tensioni muscolari sia maschere viso e altri prodotti utili per illuminare e tenere il viso particolarmente idratato e vorrei farti testare e qui i profumi di cui dispongo che si ispirano alle fragranze delle migliori marche a prezzi molto ma molto vantaggiosi non mi resta che darti appuntamento e prenota pure lo 011 749 85 86 se vuoi approfondire consulta il mio sito www.centroesteticomassaggitorino.it dove potrai trovare tutti i riferimenti su come raggiungere il centro che è il sito in corso lecce 38 a torino a pochi passi dalla stazione rivoli metropolitana ciao ti aspetto